Come sarebbe la nostra vita senza di loro? Nessuno ci ricorderebbe di fare una pausa. Ci divertiremmo molto meno. E non sapremo decidere se mandare quel messaggio. Monge è il pet food italiano dedicato ai nostri amici a quattro zampe che da sempre si prendono cura di noi. Da più di 50 anni creiamo per loro alimenti completi e bilanciati. Da oggi con tante nuove ricette monoprotein. Monge, il pet food che parla chiaro e vi vuole bene. Grazie.